Didattica a distanza, telelavoro e shopping interdetto sono alcuni degli effetti immediati dell'istituzione della zona rossa che per prevenire i contagi da covid chiude scuole, uffici e negozi. Risultato, una diminuzione immediata della circolazione delle persone, con autobus semivuoti e corse fantasma. Così accade che Tua, l'azienda unica del trasporto regionale, decida di tagliare il 10% dei servizi dell'area metropolitana di Pescara Chieti d'intesa con la regione Abruzzo, riducendo da oggi il numero delle corse giornaliere sull'urbano e in alcuni casi anche sull'extraurbano, provocando l'ira di utenti e di alcuni rappresentanti politici. Su tutti il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che proprio a Tua chiede il ripristino immediato delle corse tagliate, suscitando la risposta stizzita del presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, che, polemizzando tra le righe, puntualizza. La Tua ha attua decisioni che vengono presi dalla regione e questo già in qualche misura, diciamo così, ci crea qualche difficoltà perché, per esempio, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, che è la regione, non può chiedere a noi, visto che la regione stessa ha dato questo tipo di indicazioni. Indicazioni, che l'ho preciso senza scanso di equivoci, sono assolutamente condivise dalla Tua, perché fanno riferimento ad un lavoro che la Tua stessa ha effettuato nelle ultime settimane, laddove ha verificato quali erano le corse che avevano un'utenza pari al zero o prossime allo zero. Questo ha fatto sì che in una condizione di zona rossa, nelle quali parecchi esercizi non possono operare, in cui diversi studenti ormai sono da settimane in e-learning, gli uffici lavorano a distanza, ha creato una condizione per la quale, prendendo atto che siamo in una situazione di crisi oggettiva, sottolineata dal dato epidemico che ci ha fatto diventare zona rossa, c'è un traffico assolutamente limitato. In questo contesto i dati che noi abbiamo rilevato e passato alla regione Abruzzo hanno fatto sì che ci fosse una scelta di dilatare quelli che sono gli orari, mantenendo comunque il servizio in tutte le zone. Come gestirete il personale in questo momento? Questo personale ha delle ferie pregresse, non è come per gli amministrativi che possono essere oggetto di richiesta di lavoro da casa. L'autista strutturalmente non può fare questo e quindi verranno utilizzati tutti i meccanismi possibili per fare in modo che il servizio venga conguattuato in emergenza, ma loro non perdano il posto di lavoro.